Salve a tutti ragazzi e ragazze del vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui con questo video Non vi metto neanche la intro del mio canale Perché questo è un video molto serio E sono molto 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 incazzato E vi spiegherò tutto in questo piccolo video Mi raccomando lasciate tanti like e supportate veramente il mio canale Perché adesso scoprirete il motivo Noi ci vediamo alla prossima e vi lascio al video Ciao belli Tutto cominciò per gioco Girando sul web trovai questo server E soprattutto i miei iscritti mi chiedevano Dark, c'è Stronger Metin 2, scaricalo E allora io con la curiosità dentro di me Dissi ok proverò a scaricarlo E lo scaricai Eccoci qua su Stronger Metin 2 Io spero che il video di prima vi sia piaciuto E spero che avete lasciato quei 100 like Anzi forse non li avete neanche lasciati Perché? Perché il mio canale è morto? Non si sa Molta gente in questo server Molta gente Diciamo due persone in particolare Ieri mi hanno offeso spudoratamente Dandomi dell'obeso Dandomi Del ciccione di merda Beh Mi hanno proprio offeso Sì Moralmente Tra un po' ci mancava pure che mi davano Ma lasciamo perdere E mi hanno pure Detto molte cose Che mi hanno dato un po' fastidio Ma che io non ho fatto caso a quello che mi hanno scritto Mi hanno scritto Spero che ti venga una malattia che ti farà morire Spero di qua Spero di là Ecco perché io non voglio andare a giocare a questi determinati giochi Per questo motivo Perché c'è sempre le persone Ci sono sempre Che rosicano Per la tua strada Perché vedono che stai Comunque facendo una strada molto carina Su Youtube Con 5000 iscritti E poi vengono a dirti Hai un canale morente 5000 iscritti Vai in live 5 spettatori 6 spettatori Io Su quel punto di vista Gli do perfettamente ragione Anche perché Come potete vedere E anche Comunque nel mio canale 5000 iscritti quasi Però Chi mi segue? Nessuno? Beh Io Quello che voglio proporvi È una cosa sola ragazzuoli Facciamo vedere a queste persone Che non è come pensano loro Facciamo vedere che realmente Questi 5000 iscritti Ci sono E vivono dentro il canale Io ragazzi Credo in voi E credo anche in questo server Io faccio questo video Anche perché Voglio farvi vedere Quello che sono riuscito a fare E voglio anche farvi capire Quello Per cui Sono entrato in questo server Io Sono entrato in questo server Per conoscere nuove persone Per fare amicizia Ecco E L'amicizia che io cerco È appunto Questa Questo ragazzo Incubus All'inizio pensavo fossi una ragazza Io Ma io non gli ho mai detto Che fossi una ragazza Gli ho sempre detto Che sono un maschio Lui finalmente L'ha capito Dopo che l'ha capito Ragazzuoli Pensate Mi ha prestato La spada del rancore Più 9 54 medi Come potete vedere qua 54 medi 10 velocità della magia 10 critici 8 forza Pietra più 5 Praticamente Carina Mi sta aiutando A droppare la velenosa Di fatto adesso Andremo a scrivergli Sei riuscito A trovare La velenosa Ma comunque ragazzuoli Io voglio farvi vedere In breve tempo Ok Perché questo video Non durerà tanto Voglio farvi vedere Quello che sono riuscito A fare Allora ragazzi Io In questo server Ho creato Due equipaggiamenti L'equipaggiamento Orchi Come potete vedere qua E l'equipaggiamento Baron Ok Perfetto Allora L'equipaggiamento Orchi Lo uso Per la torre degli orchi Vi lascio comunque Il link in descrizione Del video Che ho fatto Mi raccomando E l'equipaggiamento Del Baron Io ieri Ragazzi Ho fatto Un rage quit Della madonna In questo server Quindi sono uscito Direttamente Perché Dopo Quasi Due ore Che colpivo Il Baron Era arrivato Il mio telefono Ovviamente E così Era arrivato A 400k Di vita E faceva 400-500 400-500 Per un'ora Ha fatto 400-500 E non riuscivo A buttarlo giù Non ero da solo Ero in compagnia Di un altro nemico Che sarebbe Nitro Wilson Questo qua E niente Alla fine Non ci sono riuscito Comunque Sono riuscito Dopo Quasi un giorno A creare Una battaglia Che comunque Io penso Sia top server Ecco qua 10 critici 10 trafiggenti 10 velocità della magia 10 mezzi 12 forze Pietra Anti-war Ressura Più 5 E ripetizione Più 5 Perché da velocità della magia 35 Più i 10 Che ci sono già Nel bonus Della spada Sono 45 La velocità della magia Quindi dovrebbe essere Top server Poi Ditemelo voi Nei commenti Ora sto cercando Di portare Questa corazza Da acceio nero Con Spada 15 Spadone 15 Pugnale 15 E poi Resistenza freccia E 2000 HP Portarmi tutto full Per poi andare a rompere i culi Alle persone Che veramente Mi hanno rotto il cazzo Comunque In breve tempo Allora Praticamente Ci sono due Cotaggiamenti Come vi ho già detto Orchi e Baron Il Baron Io ho inserito Le scarpe I killini Che comunque Danno 15 blocco Poi frecce Poi Vabbè Quelli Sono lì Queste qua Sono quelli di base Poi Orecchini di ebano Ho fatto uscire 15 freccia Dovevo mettere solo 22 Diavolo E mi è uscito anche il 28 Quindi Perfetto anche per 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 il coperiggio Degli occhi Bracciale Mi do a uscire HP Di assorbiti 20 diavolo 20 zombie E va bene Scudo Antistune 15 blocco 20 diavolo 20 orchi Ok Ho detto Perfetto Lo lascerò anche per gli orchi Ecco L'elmo 20 orchi 20 diavolo 30 di generazione HP E mi è uscito anche il 10 mezzi E va benissimo così La corazza è sempre quella che è E questo è l'equipaggiamento Baron Invece Per quanto riguarda l'equipaggiamento orchi È sempre lo stesso Poi c'è Il bracciale Con 2000 HP 10 assorbiti 20 orchi E 10 trafiggenti Beh Lo scudo È sempre quello Gli orecchini Sono sempre quelli E l'elmo Comunque Cambia Perché 20 orchi 20 diavolo 30 legionari 3 e 6 Resistenza magia Per quanto riguarda Ovviamente Le armi Che uso Fate conto che io uso La rancore Per il momento Però a volte uso anche La luna Che mi è uscita 55 metri 8 intelligenza 10 diavolo Ragazzi Che dire Io Penso che Un pochettino Sono riuscito A farvi capire il tutto Anche perché Quelle due persone di ieri Mi hanno fatto un po' Innervosire Però Lasciando vedere tutto questo Io spero veramente Che il video Questo video qua Non lo guardate Solo Perché C'è scritto Sono incazzato nero Stronger MT2 No Lo dovete vedere Solo e esclusivamente Per far capire A questa gentaglia Che questi 5.000 iscritti Sono attivi Io Non vi chiedo 5.000 like Non ve li chiedo Non vi chiedo Neanche 4.000 Neanche 3.000 Neanche 2.000 Neanche 1.000 Io vi chiedo Solo e esclusivamente 100 like Come vi ho richiesto Nel video precedente Ve li chiedo qua Ok Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Noi ci vediamo Al prossimo video E beh Che dire Mi raccomando Se volete venire Ad aiutarmi O a giocare con me Beh Stronger MT2 Link in descrizione Mi raccomando Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina E soprattutto Quando entrate In questo server Scegliete Il regno Shinzo Rosso Noi ci vediamo Alla prossima E ciao ragazzi